E rieccoci su Le Fonti TV e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla rassegna stampa di Le Fonti Legal. È un numero importante, il numero di settembre che apre la cosiddetta stagione che sarà quella delle riforme che tutti auspichiamo. Il numero di settembre lo apriamo con un'intervista molto importante a un avvocato gius lavorista. Parliamo quindi del mondo del lavoro, la consulenza diventa strategica, è il titolo di copertina. Abbiamo parlato, abbiamo fatto un'intervista con Francesco Amendolito, appunto avvocato gius lavorista, che annuncia i nuovi progetti per il futuro, tra cui appunto rientra una nuova alleanza strategica tra il suo studio, Amendolito Associati, e uno studio territoriale di Genova, una nuova alleanza che diciamo cavalca l'onda del cambiamento che si prospetta nei prossimi mesi. Ma entriamo nel dettaglio dell'intervista rilasciata da Amendolito, perché abbiamo parlato oltre appunto ai nuovi progetti dello studio anche dell'attuale momento del mondo del lavoro. Consulenza strategica perché? Perché la consulenza strategica deve, e non può non farlo, analizzare ogni singolo aspetto dei processi organizzativi aziendali, chiaramente. Quindi essere capaci di comprendere tutti i cambiamenti che stanno avvenendo nel sistema economico, capire anche quali sono le sfide presenti da affrontare e quali sono le future sfide possibili. Porsi quindi ancora degli obiettivi di lungo termine, afferma Amendolito, che siano in linea con la rivoluzione che sta attraversando il sistema economico, perché chiaramente di questo stiamo parlando, di una vera e propria rivoluzione. E solo dopo aver contemplato tutti questi aspetti, allora è possibile per l'avvocato, per il consulente, stilare un piano industriale a braccetto con l'imprenditore. Ma come vi dicevo, poc'anzi, l'intervista si concentra anche su molti altri aspetti che riguardano il mondo del lavoro, dalla disoccupazione, gli ultimi dati Istat che certificano non quella fuga dal mondo del lavoro che si era prospettata dopo lo sblocco del divieto dei licenziamenti, ma che dà un quadro in chiaro scuro del mondo del lavoro che ancora aspetta le riforme necessarie. Ma andiamo avanti con altri contenuti che appunto sono stati inseriti all'interno dell'ultimo numero di Le Fonti Legal e parliamo in particolare dello speciale tematico ormai consueto che svolgiamo appunto ogni mese sui temi portanti del sistema produttivo del mondo imprenditoriale italiano e parliamo dell'applicazione del DLGS 231. Parliamo di consulenza strategica, di consulenza aziendale, di compliance dei vent'anni dall'entrata in vigore del DLGS 231 che è appunto del 2001 e abbiamo chiesto quindi ai professionisti esperti e selezionati quali sono le nuove sfide anche qui appunto legate alla compliance aziendale. Entriamo nel dettaglio poi dell'articolo di apertura che possiamo vedere in sovraimpressione nel prossimo cartello grafico, le nuove sfide della compliance aziendale appunto. è emersa l'esigenza in questi ultimi mesi legati chiaramente sconvolti dalla pandemia, l'esigenza di predisporre modelli organizzativi integrati vista appunto l'eterogeneità degli illeciti che vengono commessi all'interno contro l'impresa e di adottare un approccio preventivo a rischio con un ruolo cruciale rivestito dall'organismo di vigilanza interno all'azienda e appunto dall'intelligenza artificiale. Ma potete trovare all'interno di questo speciale tutti gli interventi dei professionisti che il centro studi delle fonti legal ha selezionato. Andiamo al prossimo contenuto, anche qui parliamo appunto di un contenuto consueto, sono delle riflessioni su quello che è l'attuale situazione del mondo professionale italiano e appunto parliamo di una crisi di vocazione, sono notizie ormai che circolano da diversi giorni che sono avallate anche dai dati Istat e da ulteriori dati che stanno emergendo. Si parla della fuga dalle professioni, in particolare delle professioni di avvocato, di commercialista, di notaio che sono anche le professioni più vicine al nostro mondo di le fonti legal. Una fuga dalla professione che riguarda i giovani che non vogliono più abilitarsi e che comunque preferiscono altri mestieri che riguardano anche però i professionisti più anziani colpiti invece dalla crisi economica. Ma qual è il vulnus, ci siamo chiesti, qual è il problema che sta a monte rispetto a questa fuga? Da dove origina questa crisi che si sta palesando e si paleserà sempre di più come effetto della pandemia? Questa per noi è la domanda primaria e a nostro avviso è forse proprio il sistema stesso degli ordini professionali che sono obsoleti, non riformati o ancora peggio contro riformati nel senso che sono stati riformati sì ma con un ritorno al passato come il caso della riforma che ha riguardato l'avvocatura. Quindi diciamo che la domanda diventa oggi ancora più che mai necessaria. Cioè gli ordini professionali sono ancora adeguati al sistema economico, tutelano effettivamente le giovani generazioni, favoriscono la loro introduzione nel mondo del lavoro, il passaggio dall'università appunto all'attività professionale e soprattutto forniscono loro gli strumenti necessari per affrontare il difficile, sempre più difficile mondo del lavoro. Questa è la domanda, diciamo che la risposta noi la conosciamo e la scopriremo anche in tutti i prossimi numeri di Le Fonti Legal. Restate con noi.